Ancora devo trovare un arve No, no matemi No levati Scappa Lascia stare Ignoraci Scivola bro Scivola Noi gli possiamo Manco dire dove andare No perchè smoke Perchè così Eh infatti si è fatto credere Si Dove va a smokeare la Ah a far giro Gli piace proprio Si So qui Ah del la proprio Ma che cazzo ce li porti in vita che moriamo male qua Del la proprio Ma sta arrivando il coso il redzone Ma che cretino Che tra l'altro gli è passato qualcuno a fianco Così non devo camminare Ma non ce la facciamo eh Se ne è accorto Ryan Se ne è accorto Alla fine se ne è accorto Io sto stagginando stavattito con due cadaveri in tasca E sta facendo di tutto per riportarci in Mo c'è pure per riportarci in vita Vabbè da Vabbè, ora rientriamo, eccolo è bello, ma perchè Smuka? Questo è cretino! Dove andiamo, Rai? Non lo so, Marco, corriamo! Vabbè, andiamo da lui, andiamo da lui! Ma dipende dal cazzo è andato! Lala, vai dove sta luce, deve difendere lui, eh! Dai, andiamo, corri! Ciao! Hai trovato gente? Non male! Ma vaffanculo! Mi sono cagato sotto, Dio santo! Dio buono, mi sono trovato sta cazzo davanti, senza nome! Oh no! Reload! Damage upon! I am falling! I am falling! Reach out! Sit and shield, you'll be alright! Thank you! I'm taking a moment to heal! Void running! Hostel, right here! There is a one left here, but me! I am coming to the back! Come on, I'm coming to the back! I'll pick this guy up! Huh? No! You're stood next to me and me! You're dead. The battle belongs to only us now! He's taking time! Hostel, right here! Laylow, I will assist you! Sì. Scanning the area Gente! Vabbè Come gente? Ma veramente? Ho preso a calci Ho preso a calci Sì A6blog Dai Dai L'ho grappato Dai Io andrei Affanqui Andrei Comunche mi faccio l'ultima partita e provo a dormire perchè è già a due e mezza Vabbè andiamo in time Mi sbatti nella montagna Ryan Mi sbatti nella montagna Aspetta Ma Marco Ma Ryan mi ha azzeccato nella montagna Marco che fai nella montagna? L'ho visto atterrare Capiti loro ci hanno preceduti Io preferrei andare qua dentro Zittorino in una casa qua Io sto dentro in una casa No no ho trovato un'arma Io non ho armi Arriva Ryan No lascia 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 No no lo voglio ammazzare Eh lo ho detto lascia Ma l'ho ammazzato Eh no Marco sto sparando io da dietro e ti fotti la kill Ah scusa Eh mi alzate? Ah scusa E mi ricattivare Mi dicattivare Non lo vuoi Mi sento E la manca Il rihono Le riuscate Il riuscate Il riuscate Il riuscate Il riuscate Il riuscirne Grazie a tutti. 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 L'ho visto un altro... Oh, è fermo. Oh, cazzo, mi ha appena sparato. Oh, cazzo. Oh, cazzo, mi ha appena sparato. Oh, cazzo, mi ha appena sparato. Oh, cazzo, mi ha appena sparato. Oh, cazzo, mi ha appena sparato il posto sbagliato, buttana la vacca. Volevo usare la cella scudo, no? Oh, cazzo, 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 cazzo. 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 Oh, cazzo, cazzo. Oh, cazzo, cazzo. Oh, cazzo, cazzo. Andate. Oh, cazzo. Ecco l'altro. No, porca, è questo. No, è questo. È questo. È questo. Porca Dio, andate mi chiesti. Porca. Come faccia a giocare con uno e dicendo che abbiamo ammazzato noi, amore. Ma questo non vale. Non vale. Non vale questo. E per vedere se te funzionava il champion. E certo, sì. Funziona, possiamo giocare. Ho trovato un mirror, proprio, uno specchio. Cortesia, dove? Me lo indicati. Mi indichi. Sì. Porfavor. Me lo sto dicendo. Vabbè, me ne va. E cazzo, ma non mi avevo messo il punto. Oh! Marco! Eh, io sono fallito nell'esecuzione. Qui da mente, qui da me. No, 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 no. Lo alzo io, lo alzo io. Perché sto più veloce. Mi hai crashato. No! È vero? Sì. Che non lo abbiamo. Io controllo. Non c'è nessuno? Non ti entrare. Entrate che è il blindo tutto. Non puoi blindare la porta grande però, Marco. Eh, però ci posso mettere un bel pulsolotto dietro. Non ti entrare, Fabelli. Oh, ok. Oleee, vuole il di nonna? Ma a noi? Sì, gente. Vadovino quanti ha il mio? Due. Io ho levato lo scudo con un calcio Io ho levato lo scudo a questo Hai pure Marco No, non ho niente dai, dai morto Dove stai dai? Sto picchiando due persone Marco Sì, arrivo, arrivo, su tre Perché uno l'ho ammazzato L'ultimo do Ho ammazzato due persone Vedi che siamo più forti a cazzotti Vedi, fanculo Allora, come se la faccia? No, come se la faccia? Allora, come se la faccia? Grazie a tutti